Il progetto è un piano programmatico che prevede una serie di azioni in campo di efficientamento da realizzare nei prossimi cinque anni, quindi ha uno spazio temporale di cinque anni e lascia possibilità sicuramente su molti settori. Efficientamento energetico soprattutto? Sì, è in campo energetico, però come specificeremo dopo tocca a tutti i settori, quindi parliamo sia di trasporti che di edilizia residenziale privata, pubblica illuminazione, quindi è un progetto, è un piano che prevede un intervento su larga scala. In che ambiti in particolare e come si articolerà per meglio dire? Allora, alla base del progetto c'è la necessità di ottemperare a direttive europee che vogliono un abbattimento di emissioni di CO2, quindi si cercherà di individuare una serie di azioni che possano individuare e comprimere tutti i soggetti.